Ciao, sono Antonella Ferrulli, sono laureata in Biologia e in Tecniche Erboristiche Naturopata, autrice del libro Energetica delle Emozioni, Anima edizioni. Nel seminario Energetica delle Emozioni, Teoria e Pratica sulla Chimica delle Emozioni, Medicina Cinese, Fiore di Bach e Olio Essenziale, parleremo di emozioni in una duplice veste, in termini molecolari e in termini energetici. Inizieremo dalla definizione molecolare di che cos'è un'emozione e di come questa attraverso meticolosi meccanismi molecolari è in grado di diventare corpo nel nostro corpo, parleremo di psico-neuro-endocrino-immunologia, di neuropeptidi, di comunicazione molecolare affinché un'emozione diventi struttura all'interno del nostro corpo. Contestualmente guarderemo anche il lato energetico di un'emozione. Come può un'emozione viaggiare nel nostro corpo secondo leggi energetiche? Parleremo pertanto di medicina cinese, parleremo di 5 elementi, legge di creazione, legge di dominazione e all'interno di questa parleremo delle 5 emozioni collegate alla medicina cinese. Rabbia, gioia, preoccupazione, tristezza, paura. Successivamente parleremo di fiori di bacche e oli essenziali. Cosa hanno in comune queste materie apparentemente disconnesse fra di loro con l'energetica orientale? Sulla base di simbolismi, colori, archetipi fiori. Distinguiremo 38 fiori di bacche e 5 logge per ogni logge energetica delle sfumature emozionali identificate dai fiori. Contestualmente anche 5 oli essenziali. Un oli essenziale per ogni logge energetica. Una mia rivisitazione, un nuovo modello lavorativo applicabile a tutti, sia ai neofiti del settore, ma anche a professionisti, quali operatori olistici, massaggiatori, operatori sciazzo, naturopati, che in seguito a una diagnosi bioenergetica e in seguito alla individuazione del rimedio idoneo, potranno utilizzare questi strumenti per il riequilibrio energetico, per esempio veicolati in un olio vettore durante un massaggio, ma anche l'applicazione topico su un particolare zone di riflesso del piede, faccio riferimento alla riflessologia plantare, o anche a punti chakra, punti di agopuntura nella digitopressione. Cercheremo pertanto di creare un connubio fra energetica orientale e biologia molecolare, fra lo yin e lo yang, creando un nuovo Tao e all'interno di questo inserire l'uomo e le sue emozioni. Ti aspetto.